ben ritrovati cari amici con un'altra edizione della rassegna stampa in studio con voi rosario moreno ok a decreto agosto agosto conte dice risorse per 100 miliardi poi bonus a pagamenti elettronici più soldi per invalidità di decontribuzione del 30 per cento per chi lavora al sud via libera anche alla riforma del csm consiglio dei ministri approva il decreto che mobilita altre risorse in sostegno a famiglie e imprese confermato l'accordo di maggioranza sullo stop ai licenziamenti fino al novembre un nuovo dpcm proroga le misure di precauzione anti covid fino al 7 settembre a palazzo dei marescialli cambiano le regole per l'elezione dei togati e si mette fine alle porte girevoli tra magistratura e politica coronavirus i dati dicono che ci sono casi ancora in aumento 552 nuovi contagi mai così alti dal 28 maggio tre le nuove vittime la metà rispetto insomma l'altro ieri il numero di tamponi resta pressoché identico 59 mila 196 contro i 58 mila 673 del giorno precedente secondo gli ultimi aggiornamenti del ministero della salute nessuna regione oggi insomma ieri si trovava a zero nuovi contagi sempre sul coronavirus anche l'italia sperimenta il vaccino sull'uomo il 24 agosto iniziano i test allo spallanzani di roma e in altri centri realizzato prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana reitera utilizza la tecnologia del vettore virale non replicativo ovvero incapace di produrre infezione nell'uomo il direttore sanitario vai ha detto vediamo la fine di questa battaglia alzano e nembro conte dice il verbale del cts del 3 marzo non ne sono venuta a conoscenza il 5 dopo il confronto valutate misure più severe in conferenza stampa insomma il presidente del consiglio ha ricostruito la cronologia cronologia degli eventi che hanno portato alle zone rosse in quei giorni i numeri dei casi della bergamasca crescono rapidamente e preoccupano gli scienziati nella notte tra il 4 e il marzo carabinieri finanzieri e militari sono pronti a cinturare i due comuni beirut presidente a un dice non si può escludere l'aggressione esterna con un missile scontri nella notte tra manifestanti e polizia ci sono 20 feriti anche il direttore generale del porto a san core item tra i 16 arrestati le indagini continuano a includere appunto tutti gli altri aspetti al fine di chiarire fatti tutti i fatti relativi insomma al disastro lo ha spiegato fadia chichi commissario statale ad interim presso il tribunale militare intanto si continua a cercare tra le macerie nella speranza di trovare i superstiti secondo la croce russa libanese mancano ancora l'appello un centinaio di persone notizie da napoli e dalla campagna covid ritorno a scuola in campagna 200.000 test rapidi per prof e bidelli di apertura delle scuole screening per il contenimento del contrasto di covid 19 a partire dal 24 agosto fino al 30 appunto di agosto scatta la prima fase per l'accesso ai test rapidi e sierologici per la ricerca degli anticorpi del personale scolastico docente non docente in totale si tratta di una platea di circa 200.000 persone oltre 166.000 dipendenti pubblici ai quali si aggiungeranno circa 20.000 che lavorano negli istituti privati e paritari la decisione al termine di una riunione che si è svolta a ieri mattina appunto presso un'unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica nella prima fase accederanno al test tutte le persone in servizio alla data di avvio della campagna le rappresentanze dei medici di famiglia e deputati a effettuare lo screening hanno già avanzato la richiesta di far slittare agli inizi di settembre la procedura per superare lo scoglio del periodo feriale il covid SOS di De Luca dice servono ai test in aeroporto in campagna contagi da USA e Messico a seguito di segnalazioni di casi di positività rilevati nell'ambito delle attività epidemiologiche dell'asla della campagna relativa a cittadini provenienti dagli stati uniti dal messico e da altri paesi extraeuropei con voli dirette non che attraverso scali intermedi in altre nazioni europee il presidente della regione campagna de vincenzo De Luca ha rappresentato al governo che risulta indispensabile l'inserimento nel dpcm di prossima adozione della previsione di forme efficace di controlli attraverso tamponi oppure test sierologici direttamente in aeroporto al primo ingresso in Italia al fine di evitare il rischio di contagi. Notizie dalla Puglia Regionali 2020 il deputato barese Paolo Lattanzio lascia il Movimento 5 Stelle il deputato barese Paolo Lattanzio lascia il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ad annunciarle lo stesso Lattanzio su Facebook spiegando in un breve post che la motivazione nota da tempo è legata all'aperto di senso rispetto alle scelte strategiche di bancato posizionamento in uno schiamamento largo di centro-sinistra per le elezioni regionali pugliesi. Bollettino coronavirus del 7 agosto casi in Puglia e provincia di Bari la Puglia registra 11 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore se un 1908 tamponi effettuati i dati del bollettino epidemiologico di venerdì 7 agosto confermano dunque la ripresa di casi positivi a cui si assiste già da qualche giorno dei nuovi contagi cinque riguardano la provincia di Bari e tre rispettivamente il Foggiano e la provincia di Lecce non si registrano nuovi decessi. Notizie da Treviso e dal Veneto. Consulto oncologico a Castelfranco invertono gli esiti tra pazienti. Dallo Iova a Trieste è spedito il CD di un altro paziente vittima dello scambio Roberto Pinto. Nell'errore in radiologia l'URSS si scusa. Pieve di Soligo punta a diventare capitale italiana della cultura. Il Comune spera di entrare nella lista di 10 finalisti per il 2022. Si eliminano, tiferemo. Verona, così hanno detto. Le città in concorso sono 28. Belluno e Feltro non hanno rinnovato la candidatura. Sanfior contro tra camion e smart sulla Ponte Bana. Muore una ragazza. La piccola utilitaria è stata scacciata dal pesante automezzo. Un'altra ragazza è rimasta ferita ed è in gravi condizioni. Focolaio di Cordoverus nella caserma di migranti a Treviso. Parla il titolare della Coppa e dice siamo stagio di 10 faci norosi. Gian Lorenzo Marinese di Nova Facility dopo le accuse della politica sulla gestione del centro di accoglienza ha detto alcuni ribelli ci impediscono di attuare il distanziamento ma la verità è che l'URSS a giugno dopo i primi casi poi ci aveva definiti covid free. Invece il virus da lì non è mai uscito. Treviso a 90 anni mette in fugo e fa restare truffatore. Si era introdotto in casa dall'anziana con la scusa di leggere il contatore. Lei lo ha fatto allontanare e poi ha chiamato la polizia. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Alla Cavarzelani è arrivato l'esercito rinforzi grazie all'operazione strade sicure per proseguire il pattugliamento dell'ex caserma in quarantena fino al 15 agosto. Hanno preso servizio venerdì sera gli uomini dell'esercito destinati a supportare le altre forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale oltre ai volontari della protezione civile schierate al presidio dell'ex caserma Cavarzelani. L'arrivo dei rinforzi, i quattro mezzi per un totale di una ventina di militari, era stato annunciato appunto dal sindaco di Udine Pietro Fontanini nel corso dell'incontro organizzato dalla Lega proprio all'esterno della struttura che per ordinanza rimarrà in quarantena fino al 15 agosto dopo che tra i migranti ospidati sono stati riscontrati alcuni casi positivi al Covid-19. Coronavirus un positivo e sei in quarantena a Tarcento a dare la notizia alla comunità attraverso l'app del municipio della Perla del Friuli è stato lo stesso sindaco Mauro Steccati. Dopo settimane Covid-free, a Tarcento si è registrata una positività al coronavirus. Lo ha reso noto attraverso l'app ufficiale Municipium il sindaco Mauro Steccati che ha voluto informare nella massima trasparenza la comunità. Coronavirus sono sette positivi a Brugnera, si tratta di residenti rientrati da viaggi in Romania e in Moldavia già messi in quarantena. Salgono i casi di coronavirus registrati a Brugnera nell'ultima settimana, infatti sette persone. Sono risultate positive al tampone un aumento improvviso ma per il quale non si può parlare ancora di focolaio. Si tratta, spiega il sindaco Renzo Dolfi, di persone residenti, precisamente due nuclei familiari più un single di origine rumena. Un Moldava rientrati dopo un viaggio nei loro paesi si trovavano già tutti in quarantena. Sottolinea questo il primo cittadino, come previsto dall'ordinanza del ministro Roberto Speranza, che è per chi rientra da stati considerati a rischio. Caprioli in spiaggia, bagniante, si infortuna al collo. È successo nel tardo pomeriggio a Lignano, all'altezza dell'ufficio a spiaggia numero 11. Un bagnante ha fatto una capriola sulla renile ma è caduto male, è riportato una lesione al collo. Campo Formido, pedone investito da un'auto. L'incidente si è verificato in Via Roma nella prima serata. Una donna è stata investita nella prima serata in Via Roma a Campo Formido, poco prima delle 19, da una Renault Modus, il cui conducente, un uomo classe 1942 della zona, si è subito fermato per prestare aiuto. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Mortegliano che sono intervenuti dopo l'allarme per i rilievi e la viabilità. Bene cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della segna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione. Grazie a tutti.